Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, è bello rivedere le vostre facce sorridenti e so che state sorridendo perché oggi parliamo di Blast Beat E siamo sempre contenti quando parliamo di Blast Dunque, è il Blast un ritmo esclusivo dei metallari di che fa metal estremo oppure un ritmo che può aiutare a suonare, può risolvere molte problematiche di chi fa anche generi molto più morbidi Dunque, oggi voglio spezzare una lancia al favore del Blast e vi voglio dire tre motivazioni per cui, secondo me, lo studio di questo ritmo può aiutare anche batteristi che non sono di questo genere Andremo velocissimi, quindi ti ricordo di seguirmi con un commento per quello che vedi e quello che senti e farmi sapere cosa ne pensi Mi sono fatto qua degli appunti, quindi andiamo super veloci e passiamo al primo motivo per cui, secondo me, il Blast Beat è utile un po' per tutti i tipi di batteristi La prima delle tre ragioni è colpi singoli, tecnica e resistenza Dunque, colpi singoli In quanto batteristi metal, il 99,999% di quello che suoniamo sono colpi singoli Quindi per noi è davvero un dovere saperli fare e controllare, diciamo, al massimo delle nostre potenzialità Ma questo è anche quello che succede nella batteria convenzionale Perché quello che suoniamo, che cos'è se non colpi singoli, colpi doppi La fusione di questi che vanno a formare tutti i paradiddle E poi ovviamente anche pause Quindi colpi singoli Quando sviluppiamo i colpi singoli ci scontriamo e li vogliamo portare a velocità molto molto alte Come per esempio tra i 220 e i 260 bpm Ma anche i 280 perché là fuori c'è gente veramente mostruosa al giorno d'oggi Quindi quando vogliamo sviluppare questi colpi singoli ci scontriamo contro un limite tecnico E questo è un grossissimo stimolo per, appunto, lo sviluppo della tecnica E la comprensione, se vogliamo, mentale di come funziona la tecnica relazionata alle dinamiche Perché quando si va in velocità dobbiamo per forza accettare il fatto che le nostre dinamiche dovranno calare Ci sarà una grossa differenza fra colpi singoli suonati a 220 bpm e colpi singoli suonati a 110 bpm Sarebbe impensabile suonarli alla stessa dinamica Facciamo un brevissimo esempio Questi sono 224 All'incirca Forse erano un po' più lenti Contro 112 Bene, a me non sembra affatto la stessa dinamica Questo può sembrare stupido, banale Ma quando poi ci raffrontiamo con questa realtà Allora diventa uno stimolo per la comprensione della tecnica e il suo funzionamento Poi resistenza Perché noi abbiamo costruito i colpi singoli Abbiamo costruito la velocità La tecnica Ma ancora non sappiamo suonare un brano dei Nile Perché un brano dei Nile saranno 3 minuti, 3 minuti e mezzo di blast beat quasi continuo Quindi quello che ci serve è la resistenza Suonare blast beat per molti minuti di fila è anche non solo uno stress diciamo dal punto di vista fisico ma anche mentale Quindi questo ci può tornare comodo anche quando suoniamo in generi molto più morbidi Anche durante un concerto pop o di musica leggera E alla fine spesso di questo concerto viene richiesto magari un boost Un crescendo nella dinamica per garantire un finale esplosivo Per garantire quel finale che poi la gente si ricorda Bene, questo richiede anche un certo allenamento fisico E anche studiando un ritmo del genere saremo pronti a poterlo affrontare Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale E dammi una bella spolliciata su questo video se ti sta piacendo Dunque il secondo grande motivo per cui studiare il blast beat è Mi sono fatto degli appunti Accuratezza Accuratezza e controllo Nel blast beat alterniamo colpi tra cassa e rullante Questo si chiama traditional blast dove abbiamo la cassa a imbattere e il rullante che riempie tutte le altre note Con la cassa a imbattere abbiamo anche il ride che accompagna Quindi avremo un unisono fra ride Quindi fra mano destra nel mio caso e piede destro Bene, se questi colpi non sono perfettamente all'unisono Il blast è sloppy Un altro esempio, un altro tipo di blast è un blast dove si fanno colpi all'unisono con tutte e due le mani E i piedi alternati, credo che si chiami bomb blast Magari qualcuno più esperto nel settore mi potrà correggere se mi sbaglio Comunque il bomb blast è una sorta di questo Vale lo stesso principio Se qui abbiamo dei flam fra cassa e rullante Il tutto si scolla e non ha né potenza E né raggiungiamo il nostro obiettivo per accompagnare la nostra canzone Death metal o altri generi Quindi quello che è fondamentale sviluppare sono proprio gli unisoni fra cassa e rullante Nell'assenza di flam E questo è quello che vogliamo anche quando suoniamo generi molto più blandi Chi vorrebbe sentire un groove scollato dove le ghost che impattano con la cassa sono tutte flammate Oppure se stiamo accompagnando un pezzo dance con la cassa in quattro Il nostro rullante è sempre flammato con la cassa e non torna a niente Quindi anche dal punto di vista meccanico il controllo serve in tutti i generi E il blast è praticamente una miniera di controllo Ok? Quindi questo è il secondo motivo Passiamo velocissimi al terzo Balance e linear Questo è praticamente l'opposto L'altra faccia della medaglia che ho detto prima Se da una parte nel blast facciamo colpi all'unisono Bene ci sono anche colpi alternati Linear quindi linear fra cassa e rullante soprattutto Come nell'esempio del traditional blast che vi ho detto prima La cassa a imbattere è il rullante a tutti gli altri colpi Qui la difficoltà sarà proprio nel mantenere la cassa a imbattere mentre stiamo suonando questo linear Sarebbe Qui la difficoltà è mantenere la cassa a imbattere Comunque sia negli esercizi adibiti allo sviluppo per il blast ci sono moltissimi linear Linear fra piede destro e mano sinistra come ho fatto in questo momento Ma anche il più classico fra mano destra e piede destro Dopodiché col piede sinistro tra mano destra e piede sinistro E anche fra mano sinistra e piede sinistro Questo perché? Perché quando stiamo suonando di questi ritmi Per esempio come prima l'hammer blast E magari lo facciamo con la cassa in 32esimi e non in 16esimi Quello che succede fra la nostra mano sinistra e il nostro piede sinistro Sono proprio dei colpi singoli Quindi è sensato pensare che se io sviluppo questo movimento a parte Dopo sono facilitato nell'esecuzione del tutto Bene, quindi quale batterista? A quale batterista non interessa il balance e i linear? A tutti, in tutti i generi E nel blast ci sono tonnellate di linear Quindi di nuovo Tecnica e colpi singoli soprattutto Accuratezza soprattutto negli unisoni Balance soprattutto per l'esecuzione dei linear Questi secondo me sono tre macro motivi Per cui qualsiasi batterista di qualsiasi genere Potrebbe affrontare lo studio del blast beat Con l'intenzione di migliorare proprio nel suo genere specifico Fammi sapere che cosa ne pensi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare una bella spollisciata O ad iscrivervi al canale se l'avete gradito E dunque anche per questa volta è tutto Io mi chiamo Bernardo Grillo E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao